Ok, allora io spero che non mi appare niente Ok, allora, metto qua Preparo Questa voce è davvero tremenda oggi Ed eccoci qua Ciao a tutti ragazzi, io sono AndraGamer e benvenuti su questo nuovissimo video su... Ehm, su... Super Mario 64 Allora, vi sono andato a dirvi di mettere un mi piace Iscrivetevi al canale Attivare la campanellina per non perdervi un altro video su un altro gioco Come dico al solito E scrivetemi qualche commento Allora, iniziamo con Mario A Okidoki Ok Peach Peach, princess Princess Peach Oh 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 Eccoci davanti al castello ragazzi ecco qua ma posso anche saltare? oh no peccato ok eccoci ed eccoci qua cosa vuol dire questa telecamera qua? allora si ok ed eccoci qua siamo Mario ciao a tutti ragazzi io sono Mario e adesso siamo anche davanti alla cassetta e guardate guarda in su con il muretto al muretto sto guardando lei ma perché faccio ho una lingua che fa sto venendo a friend non so perché ma ti sto venendo a prendere eccoci Bowser welcome no one's home no scream and don't come back oh mio dio oh mio dio Bowser è davvero davvero un pazzoide un pazzo furioso proviamo a parlare con Todd ok allora se non erro la faccia di Todd sarebbe quando si è avvenuto quando si è avvenuto quando si è avvenuto quando si è avvenuto per aprire la porta con mamma con la grande stanza la princesa deve essere dentro ok però potrei anche migliorare la voce di Todd allora eccoci qua allora dovremmo andare in quella stanza giusto? ecco qua allora ecco il dipinto il dipinto però vorrei esplorare un po' il castello prima prima di andare nel livello perché non voglio fare una cosa per volta e neanche una cosa veloce comunque quella stanza lì l'abbiamo già vista questa della stella ma io voglio andare a esplorare il castello tipo qua entriamo da questa parte ecco che bella com'è ristrutturato uh questa porta qua dove porta questa porta qua? dove porta? ah ok allora andiamo qua qua sotto uh ok c'è una chiave e si però Bowser non devi ridere quando io quando tu non ci sei eh non si sente solo te io non parlo anche se Mario parla vabbè gli do la voce io allora questo è l'esterno quindi se io salto così qua c'è la fontana ok ok meglio di non andare nell'acqua perché sennò soffoco e voi lo sapete che poi Mario muore quando rimane sempre in acqua muore quindi meglio di evitare di andare nella fontana quindi adesso corriamo come dei pazzoidi e andiamo nella stanza dove c'è la stella ci vediamo lì ragazzi ok let's go ok eccoci basta con questi tutorial io voglio voglio esplorare il livello che dico allora posso parlare con lui posso parlare con questa simpaticissima bomba no no ma è nella vita aspetta posso parlare con questa no con già esalto non so perché non posso parlare con le bombe peccato oh mio dio questo kumba o gumba mi ha fatto venire la po eh no aspetta eh ok sono ok eccoci qua corriamo ok corriamo no perché devo correre come un pazzoide stai calmo mario perché adesso ci tocca salire ok ma non so perché la telecamera è storta non so ah si è raddrizzata adesso no adesso no oddio questo è un pazzoide questo è un pazzoide questo è un pazzo ah ya madonna santa che male che mi ha fatto oh ce l'ho fatta finalmente ok 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 ahhh scappiamo da queste bombe pazzoide ok 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 ahhh mi striscia tutto mi si si slaccia tutto l'abito ok andiamo da questa parte e stiamo attenti a queste bombe anzi no queste palle di fieno oppure palle di ferro di ferro di ferro cari cavolo scappiamo scappiamo da queste bombe non mi direi che ci tocca ricominciare da capo ah ok hoci con calma no ok stavo per cadere vivo ok stiamo attenti dai dai Ok, siamo attenti Oh, calma, eh Calma, telecamera Perché mi stava cadendo la telecamera Ma, ma porca vacca Ho fatto fatica ad arrivare qua sopra E ora Andiamo Ok Mamma mia, che paura Ok Non so perché fa Beh, forse Sta sprecando vita Ok, adesso non cadere Non cadere Mario, no Ok Ok, ok Ok Ok, sto urlando con Oddio, che paura Oh, perca ho fatto Sono in pausa, ma sono un deficiente Ok Radrizzo un po' la telecamera, ragazzi Ok, ecco Voi leggete power, giusto? O voi vedete che la drizzo ancora un po'? Ecco qua Allora Siamo rimasti qua Ok, ok Quante pale stanno venendo Ok, meglio stare attenti Stare distanti No, non morire Non morire Ok Siamo nel tunnel adesso Nel tunnel Nel tunnel Nel tunnel Nel tunnel Ho sprecato un po' di vite Ed sicuramente se cadiamo Muriamo Muriamo di sicuro Parliamo con lui Ok Ok, allora Quando parte la boss fight Noi dovremo scappare Da questa parte Ok Addio per sempre Scappiamo, ragazzi Ho una vita Ok Oh lei Ok Lui non dovrebbe venire qua Ok Stiamo Avendo tanta vita adesso Ragazzi Tuffiamoci Beh Un po' di male Ce lo siamo fatto Ok Adesso scappiamo E adesso parte Andiamo da questa parte E scappiamo via da qui Perché questo posto È diventato crazy Ok Questo posto È diventato crazy Adesso Mario Devi andare Essere guidato da me Ok Perfetto Perfetto ragazzi Direi che Questo video Su Super Mario 64 Lo posso anche concludere qui Non sono riuscita a fare la boss fight Perché Non so come si faceva Al tasto prendere Ma comunque È stata una È stata una bella giocata No? E quindi Direi Di salutarvi E noi ci danno per un prossimo video Ciao ragazzi